Slavia, ha le prese con? Non lo so neanche io, con questa. No, sto iniziando, visto uno dei tanti cammini, sto provando anche un po' di kite, però io sfortunatamente non l'ho mai fatto prima, quindi devo imparare veramente da zero e motivo per cui è meglio che inizi con qualche tavola di questo tipo, piuttosto che... Del tipo su cui sto lavorando? Questo è un free race che sto provando solo oggi e ho fatto otto giorni di kite, compreso il primo di body drag, quindi sono ancora molto pericolosa per me stessa e per gli altri in acqua. Sei perfetta però per dirci cosa hanno in comune kite e windsurf? Completamente niente. Ecco, chiariamolo. No, completamente niente, però ti dico, non posso parlare perché non ho ancora provato questa tavola che sembra molto interessante, però come tutti gli sport ci vogliono degli step per arrivarci, è meglio non saltarli per non farsi male, non fare male a qualcun altro. Stai in campo, hai un raggio molto ampio in questo momento, hai provato anche il kat recentemente. Sì, sì, devo dire che il katanano mi piace molto, ho provato anche lo skiff in Australia dove già hanno i rig dell'FX e anche quello è bellissimo. Sinceramente sono tutte cose interessanti, però voglio un attimo, mi prendo il mio giusto tempo per pensarci e prendere la decisione che sia poi la migliore per... E poi aspettiamo novembre, no? Esattamente, quindi adesso sto giocando. Allora, buon divertimento, ci vediamo nei prossimi giorni, grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie.